Un giovane come tanti, istantane di vita, a Gaglianico dove abitava, a Sarajevo in Bosnia, il suo paese d'origine, nato e cresciuto a Zavidovizi, cittadina industriale della lavorazione del legno, i segni e l'eco della guerra degli anni 90. Amel Marusic aveva scelto l'Italia per costruire un futuro, lui come tantissimi connazionali della diaspora, emigrato per lavoro ed è morto proprio mentre lavorava. Appena 33 anni, la caduta fatale dal tetto di questo capannone in via Emilia, San Mauro Torinese, contratto regolare con una ditta edile del biellese coinvolta proprio nel rifacimento del tetto. Non si sa ancora bene che cosa sia successo, forse Amel ha appoggiato il piede su una lastra di plexiglass non ancora fissata, un movimento improvviso, la perdita di equilibrio, il volo nel vuoto, precipitato per 10 metri, soccorsi inutili, morto sul colpo. Il capannone adesso è sotto sequestro, la procura di Ivrea vuole capire se l'operaio indossasse o meno i dispositivi di sicurezza previsti, verifiche in corso da parte dei carabinieri e dello Spresal. Per il Piemonte è l'ennesimo incidente mortale sul lavoro, da gennaio 24 vittime, una strage.